Io sono consigliere comunale e quindi sono stato eletto nel 2011 all'interno di una lista di partito, sapete che nei consigli comunali c'è ancora la preferenza alla persona, una sola preferenza. Anni fa, alla fine degli anni 80, si potevano votare fino a 5 persone, in Parlamento europeo ancora questo accade, quindi c'era la possibilità di una preferenza multipla, poi è stato deciso di assegnare per il consiglio comunale una sola preferenza proprio perché la preferenza multipla aveva indotto molti a farsi corrompere, o meglio a vendere il proprio voto, perché era più semplice nel momento in cui c'era una terna preordinata, rossi, bianchi, verdi, immaginando tre cognomi, riuscire a far capire a chi doveva controllare i voti, quanti voti erano giunti in quel seggio, quindi io ti procuro 50 voti, tu mi dai soldi, io mi garantisci dei favori e come facciamo a riconoscere che tu hai votato in quel seggio? Io ti metto questa terra, rossi, bianchi e verdi, e verdi te lo metto anche con nome, quindi ti metto primo rossi, secondo verdi e terzo ti metto Mauro Bianchi e ti garantisco che oltre a me lo voteranno altri miei parenti, miei vicini e se ci hanno 50 voti con questa terra scritta così mi darai i soldi, questo lo dico perché ci sono purtroppo moltissimi modi e metodi per vendere i propri diritti e per acquistarli, sul sistema elettorale ce ne sono altri, Saviano in televisione ne ha pubblicizzato uno, non voglio entrare nel merito di quest'altro metodo, anche con la preferenza unica, però è importante che siamo consapevoli che alcune scelte sono dovute proprio alla possibilità di corruzione, cioè si restringe la possibilità per le persone di indicare più di una persona proprio perché questo diritto è stato utilizzato ed è stato venduto, comunque io sono stato eletto nel 2011 alla carica di consigliere comunale, ero consigliere comunale anche nel passato mandato, dal 2008 perché sono subentrato come primo dei non eletti quando una consigliere comunale è entrata in Senato e fare il consigliere comunale è di fatto un lavoro ed è giusto che sia un lavoro, cioè è un impegno che viene retribuito, io considero che sia giusto che sia retribuito il cittadino a cui sono affidati incarichi pubblici, come dice la Costituzione, perché il fatto che uno sia retribuito dà la possibilità di poter dedicare il tempo necessario agli atti che deve votare e prima di votare deve capire, conoscere, approfondire e anche individuare all'interno di un gruppo di persone, delle persone che lo possono aiutare perché io ho delle competenze ma come consigliere comunale sono chiamato a votare su tantissimi argomenti, dall'urbanistica agli aspetti sociali, agli aspetti di bilancio economici, agli aspetti anche finanziari, ad elementi riguardanti il traffico e quindi a tanti argomenti di cui io non sono competenti ma appunto durante le lezioni mi è stato affidato questo incarico, è giusto che si vengano retribuiti e io consiglio a tutti voi nel momento in cui a un certo punto della vostra vita vogliate dedicarvi alla politica di fare questa esperienza, perché è un'esperienza molto interessante, molto importante, per esempio dà la possibilità a me di essere qui con voi, di parlare a voi e di aver ascoltato con un ruolo istituzionale, aver ascoltato i vostri contributi, dà la possibilità di dedicare 5 anni della propria vita, 10 anni della propria vita al bene pubblico, al bene collettivo, perché di fatto la politica è qualcosa di disperdamente legato al bene collettivo, una persona ha dei principi con cui governa la propria azione, poi ha delle strategie, delle alleanze, perché non si può decidere da solito, la democrazia si deve decidere insieme, raggiungendo almeno la metà di uno delle persone che sono state elette e quindi lavorare per il bene collettivo e quindi governare la cassa comune che noi tutti i cittadini o gran parte, purtroppo non tutti, ma gran parte di noi mettiamo, cioè attraverso le tasse, governare e quindi decidere come impiegare queste risorse è un bellissimo lavoro. Volevo entrare nello specifico, mi è venuto in mente, di quanto si è remunerato il mio lavoro perché secondo me è importante che in questo momento in cui si immaginano privilegi o si immaginano stipendi faronici che voi facciate prendiate la misura di quanto prende un consigliere comunale. Io prendo 125 euro l'ordi ad ogni seduta di consiglio comunale e ad ogni commissione a cui partecipo, quindi in teoria uno potrebbe fare un altro lavoro e svolgere anche l'attività di consigliere comunale perché ha dei permessi, io potrei andare la mattina al lavoro, poi all'una alla commissione ho il permesso, anzi retribuito perché non viene scalato lo stipendio, per andare in commissione e poi tornare al lavoro. Nella commissione si affrontano i temi in cui si voterà. Ci sono alcuni che rinunciano al lavoro che avevano prima per dedicarsi a tempo pieno dalla mattina alla sera al consiglio comunale, io ho rinunciato a un lavoro dei due che avevo e ne ho ottenuto uno, perché il tempo che uno deve dedicare al consiglio comunale è estremamente importante e ampio. 125 euro fino a un massimo di 1600 euro per quel mese, ad agosto non ci sono commissioni e noi non abbiamo oggetto di presenza e stipendi. Quindi 1600 euro quando facciamo al massimo 19 commissioni, se ce ne sono 15 prendiamo meno. Questo è il metodo con cui veniamo retribuiti e tanto e poco, questo lascio alla valutazione di ciascuno, è importante però che chi fa politica venga retribuito, non si può pensare che uno faccia politica a titolo volontaristico, perché alcuni lo possono fare perché pensionati, perché molto ricchi o magari perché studenti mantenuti nella famiglia, altri non lo possono fare perché il lavoro è importante, mantenere una famiglia è uno dei primi compiti che uno suppone nella propria vita, quindi è importante che sia un lavoro retribuito, troppo, troppo poco, quanto, sicuramente al termine del mio mandato nel 2016 io terminerò questo lavoro, quindi un lavoro a contratto a tempo determinato. Questo ve lo dico perché è importante che voi facciate anche delle riflessioni sul ruolo della politica, sulla politica e anche immaginate magari a un certo punto della vostra vita che possa essere per voi interessante fare questa esperienza e ripeto, io ve la consiglio perché è un'esperienza molto stimolante. Voi avete trattato nelle vostre relazioni diversi argomenti, la corruzione, la mafia, la complicità, la responsabilità personale, i tanti della corruzione, avete accennato al tema dello sport, ci sono moltissimi stimoli e io come presidente della commissione antimafia ne ho trovati alcuni che riguardano espressamente la mia competenza. Volevo trattarne uno perché non ho il tempo di trattarli tutti e poi probabilmente non sarebbe utile e il mio intervento vorrebbe stimolare poi anche un dibattito successivo se si era a tempo. Il tema dello sport, noi abbiamo avuto una situazione molto particolare a Milano, noi se voi andate sulla Milano-Meda, verso Meda, uscendo o rientrando, se uccite, sulla sinistra a un certo punto dopo la sede della Lega vedete il palazzetto dello sport di Ieseo bruciato. È un palazzetto bruciato che è rimasto lì per molti mesi così purtroppo. A dicembre finalmente abbiamo trovato risorse economiche per restituirlo così com'era la città. Perché è stato bruciato? Non si sa nel dettaglio, però è stato protagonista di un fatto estremamente grave per la città di Milano. Quel palazzetto è stato detto dai magistrati che hanno arrestato 35 persone, è stato colonizzato da un clan mafioso che gravitava intorno a Alfori, Bruzzano e la Comasina. C'è un clan mafioso che aveva di fatto cominciato a dialogare con chi gestiva il centro sportivo fino ad arrivare a incorre le proprie aziende o le proprie persone per gestire il bar, il catering, avere un ufficio all'interno del centro sportivo, utilizzare il centro sportivo per feste personali. La situazione si complica perché nell'inchiesta a un certo punto emerge che il presidente della società sportiva aveva non proprio subito questa intimidazione, questa minaccia, questa pressione di questa famiglia mafiosa, ma aveva anche sfruttato la forza intimidatrice della famiglia mafiosa. L'intimidazione è un termine che caratterizza il sodalizio mafioso, il vincolo mafioso. L'articolo 416 bis ci ricorda che l'associazione mafiosa è un vincolo associativo che si fa tra più persone in cui c'è un verità, intimidazione e associatamente. Questi sono i termini importanti. Ma cosa fa il presidente? A un certo punto sembra quasi che sfrutti questa capacità di intimidazione perché una persona di una società sportiva che aveva utilizzato il centro sportivo a un certo punto litiga col presidente, vuole queregarlo e il presidente chiama questa famiglia mafiosa e chiede di intervenire per fare in modo che questo ritiri la querela che poi ritirerà. Questa è la situazione che ci siamo trovati a gestire. A quel punto abbiamo revocato la concessione alla società sportiva che si era fatta colonizzare ma che forse aveva anche sfruttato il cognome di questa famiglia e il palazzetto dello sport doveva essere riassegnato ma qualche mese dopo che avevamo revocato il palazzetto dello sport a questa famiglia è stato bruciato con dei danni eccezionalmente alti. E tutti pensiamo che è stata la vendetta della mafia contro il comune di Milano. Ci ha incacciato via e noi ce lo bruciamo. Questo esempio ci ha portato a riflettere sugli interessi mafiosi nello sport. Lo sport è interessante per la mafia perché da un lato attorno alle società sportive ci sono molte persone, atleti, genitori, dirigenti, allenatori, tifosi per cui io mi rivolgo a un grande panorama di persone. E quindi per esempio in chiave elettorale poter rivolgermi ad un grande panorama di persone di questa società sportiva può essere utile perché io posso portare a quel candidato molti voti. E per la mafia è importante portare dei voti ad un candidato e poi ricattarlo successivamente. Chiedergli gli appalti, chiedergli i valori. E lì abbiamo tantissime persone. Ma poi la società sportiva è anche luogo di interessi economici. Perché c'è delle società sportive che investono anche 500 mila euro, un milione di euro, due milioni di euro per riqualificare la propria struttura. E ci sono delle situazioni che ci hanno segnalato molto particolate per cui ci hanno segnalato che alcune imprese sponsorizzano le società sportive. Questo non accade sempre però è un elemento che dobbiamo prendere in considerazione. Alcune imprese sponsorizzano le società sportive per esempio in anno 5 mila euro, o meglio, 50 mila euro. Detraggono dalle tasse queste 50 mila euro perché hanno dato i soldi alle società sportive e quindi hanno un vantaggio fiscale. Ma poi cosa succede? Le società sportive con il nero che fanno, perché spesso per pagare il corso non diamo l'assegno bancario, non facciamo il bonifico bancario, ma facciamo, ma diamo 200 euro in contante, 300 euro in contante. Con il nero restituiscono all'impresa 30-40 mila euro, per cui l'impresa garantisce 20 mila euro la società sportiva a fatto che questi soldi rientrino, a fatto che altri 30 mila euro rientrino, quindi scarico 50 mila euro ma emetto solo 20 mila. Questa è una delle pratiche che alcune le società sportive, sfruttando il fatto di essere un'associazione, utilizzano. Ed è un fenomeno di fatto che porta a corruzione, che porta a nero, che porta a evasione fiscale e gli interessi economici possono essere importanti anche per le macchie. Quindi abbiamo proposto, e qui vado a chiudere, in collaborazione con Trasparese, con cui collaboriamo da molti anni, nel 2002 applicando infatti l'integrità in Comune di Milano, il whistleblowing che avete citato, mi ha fatto molto piacere, una procedura che entrerà nel nostro piano di corruzione, suggerita da Transparency, con Transparency stiamo lavorando per un codice etico delle società sportive. Cioè vogliamo che il Comune di Milano valorizzi le società sportive trasparenti, democratiche, sane, che riescono a contabilizzare tutto, perché ci sono, e quindi vogliamo valorizzarle. Quindi l'idea è quella di premiare gli onesti, in modo tale che l'onestà possa essere in qualche maniera un valore riconosciuto pubblicamente, ma addirittura un valore che può essere premiato, per cui i contributi del Comune di Milano non vanno a caso alle società sportive, ma vanno alla società sportiva, per esempio, che è la più democratica, mette i bilanci su internet, rendi conto a tutto e quindi chiede, per esempio, ai genitori di pagare con bonifico bancario, fa l'iniziativa contro la corruzione, contro il doppio dello sport, fa l'iniziativa contro la pedofilia, fa l'iniziativa contro le scommesse. E questa azione viene premiata. Poi ci sarà la Guardia di Finanza che agirà, ci sarà la Polizia e i Carabinieri che agiranno. Il Comune però può svolgere una parte. E quindi questo codice, questo patto di legalità, è una delle proposte che ci tenevo, che voi riconosceste, perché molti di voi immagino sono vicini alle società sportive e quindi probabilmente hanno compreso bene quello che gravita intorno alle società sportive, quel bene e quel divertimento che molti volontari offrono a tantissimi nostri concitamenti. Grazie mille. Grazie. Grazie.